Sarà un processo ad accertare la verità riguardo la morte di Andrea Centonce, il centauro 36enne, vittima di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata del 22 luglio 2023, sulla strada provinciale Seiche con le Galecce e Monteroni. Stando a quanto ricostruito dalle indagini sul sinistro, il giovane centauro stava viaggiando in direzione del capoluogo salentino quando si è scontrato contro una Fiat Panda, la quale in quel momento occupava l'intera carreggiata in tenta in una manovra di inversione a U. Contro l'auto ha impattato il 36enne a bordo della sua moto, il quale a sua volta stava eseguendo delle operazioni di sorpasso di altre autovetture. La scarsa visibilità dovuta alle due manovre in corso e la probabile velocità elevata della moto non avrebbero impedito l'impatto, risultato fatale per il motociclista che è morto sul colpo. A disporre il rinviaggiudizio nei confronti del conducente della Fiat Panda, un 62enne originario di Aradeo, è stata la giudice del Tribunale di Lecce, Anna Paola Capano, al termine dell'audienza preliminare celebrata nelle scorse ore, durante la quale è stata accolta la Costituzione in giudizio dei familiari della vittima difesi dall'avvocato Stefano Patti. Il processo quindi si aprirà il prossimo 13 febbraio dinanzi al giudice Marco Marangio Mauro, l'imputato e difeso dall'avvocato Riccardo Monti.